A Montasei il numero di automobili rimaste danneggiate a Catanzaro a seguito di un incendio in località Giovino che secondo quanto emerso dai primi accertamenti potrebbe essere stato di origine dolosa. Necessario l'intervento di alcune squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e del distaccamento di Sella Marina. Le vetture coinvolte erano parcheggiate nel piazzale antistante la chiesa del quartiere. Allo scopo di ricostruire la dinamica di quanto è accaduto sono state acquisite le immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza installate nella zona. Da quanto emerso le fiamme sarebbero partite da una delle automobili, una minicooper andata poi totalmente distrutta e si sarebbero estese alle vetture che si trovavano nelle vicinanze le quali hanno subito tutte gravi danni. Non si sa al momento se sul posto siano state trovate tracce di liquido infiammabile. Viene presa in considerazione comunque anche la possibilità che la causa dell'incendio che è interessato alla prima vettura possa essere stata di natura accidentale legata ad una possibile anomalia dell'impianto elettrico.